Perari, panoce, pomi in granà, pomi, né caldo né freddo, che ben casse sta. Questo è il mese di settembre dove i frutti della stagione come le pere, le mele, il melograno che è qui sopra la mia testa sono i frutti simbolo. Né caldo né freddo, che ben casse sta, è la temperatura ideale per assaporare ancora dell'estate e per aspettare l'autunno che è alle porte, con i suoi colori e le sue sfumature del tramonto che si possono ammirare qui a Valgrande. Sì, nel mese di settembre tutto diventa una poesia e tutto assume un colore particolare, un colore molto acceso, così come i colori di questo melograno che spiccherà sulle nostre tavole e che rappresenterà anche nei nostri piatti uno sfurezzo di fine estate. La nostra ciaccola dedicata al mese di settembre è fatta e adesso io mi dedico al mio sfurezzo, la crema preparata da voi che sarà abbinata con le perle di melograno. E buon sfurezzo a tutti!